È giovedì, sono le 19.03 ed io sono Matthew con una nuova puntata del mio diario. Allora, in questa puntata l'ospite mi è proprio addosso. Per chi ci sta seguendo dal sito, dalla radio tv, può notare che è qui vicino a me. E io sono molto, molto, molto contento perché è una mia cara amica. E le do subito il buonasera. Ciao Nunzia. Ciao Matthew. Ciao. Nunzia Gaudiello in veste di scrittrice. Sì, però dopo ne parliamo. Per chi così ci sta ascoltando, racconta un po' chi sei, perché sei venuta qui. Avevi tanta voglia di vedermi. Sì, mi mancavi. Diciamo che erano passati tantissimi anni, quindi avevo il desiderio di condividere qualcosa con te. È vero, è vero. Io sono Nunzia e ho la fortuna di essere presente in questa radio storica, direi, Radio Pestum, insomma. Adesso vivo ad Agropoli, però sono comunque una capa accese. Viva Capaccio. Viva Capaccio. Quindi volevo far rendere participe, insomma, anche Capaccio di questa mia pubblicazione di questo libro, Incenso al Melograno. Ecco, perché se qui, lo annunciavo prima, investe di scrittrice. Incenso al Melograno, un titolo bellissimo. Ma prima, cioè, come mai l'idea di scrivere questo libro? Non dirmi che è nato tutto in lockdown, perché ultimamente tutti quelli che intervisto, come mai, eh, in lockdown, cioè praticamente oggi, se in lockdown non hai scritto un libro, non sei nessuno. Non sei nessuno. Eh, io potevo pensarci... No, io diciamo che in lockdown lavoravo. Ok, quindi post-lockdown. Ecco, post-lockdown. Intanto la regia si riempie di ospiti, salutiamo tutti, buonasera. Gli ospiti dopo... C'è anche mio marito. C'è anche tuo marito che ci sta filmando, c'è Carmine in regia. Comunque, stavamo dicendo, non ci distraiamo. Sì. Allora, sì, diciamo che questa è, più che idea, nasce come una sorta di diario segreto, diciamo, no? Ognuno di noi, nel suo intimo, nei momenti più bui della sua vita, ha bisogno di esternare, appunto, determinate emozioni. Quindi nasce come nel 2019, siamo al 2023. Ah, quindi nel 2019 è nato. Ah, quindi pre-lockdown. Certo, prima. Insomma, ho fatto una previsione di quello che stesse per accadere. La previsione è una previsione mitica. Ma il titolo come mai? Incenso al melograno. Al melograno, bravo. È un titolo strano, anche se solitamente si dovrebbe dire al melagrana. Però a me è l'albero del melograno. Ah, ok. Quindi per questo... Al maschile. Al maschile. Declinato al maschile. Bravo. Quindi l'incenso perché? Perché, insomma, io prego, mi affido, sono buddista, quindi mi affido. E nelle mie preghiere a farmi compagnia c'è l'odore magnifico di incenso al melograno. Ah, poi insomma il melograno... Lo senti proprio, lo percepisci? Lo percepisci. Insomma, io prima avevo una casetta piccola, tipo la casetta in Canada, dove appena entravi nella mia casetta, che succedeva? Sentivi questo odore di incenso. Era magnifico. Ancora oggi, oggi di meno. Però invece melograno perché? Perché il melograno rappresenta un po' la nostra persona, rappresenta un po' l'essere umano, quindi la scorza di fuori, la parte di fuori dura e poi all'interno questi semi iarelli, mi sembra che si chiamano. Sì. Dicevo di sì. Dicevo di sì. Quindi morbidi, succulenti. Il tutto è tratto da una storia vera. Da una storia vera, certo. Ma brevemente, ovviamente, non svelarci troppo. No. Cosa contiene questo libro? Questo libro che contiene? Contiene pezzi della mia vita, insomma, io mi racconto. Come dico sempre, ho preso la mia vita e l'ho messa in mano ai lettori. Perché è così, insomma, è giusto che sia così. Ognuno di noi deve dimostrare agli altri che nella vita c'è sempre un senso per ogni evento, ogni momento della vita. Questo libro di che tratta? Tratta di diversi, parla di diversi momenti della mia vita dove ogni momento è accompagnato da una sorta di patologia, tra virgolette. Quindi troviamo un interesse particolare per la depressione, oggigiorno molto presente, soprattutto nel nostro, nel sistema attuale. Parla di una parentesi che, insomma, tratta l'ansia. E un po', diciamo, gli insuccessi che portano alla fine poi ad un successo. Quindi tante tematiche anche molto, molto attuali. Certo, molto attuali. E ma di quale, cioè, qual è stata la scintilla? Cioè, da cosa ti sei sentita ispirata per dire ora mi metto carta e penna e inizio a scrivere un libro? Cioè, si decide prima? No, diciamo che dipende dal periodo in cui vivi, in cui ti trovi. Era un periodo della mia vita un po' buio, quindi desideravo cercare un momento di luce, quindi avere, ecco, avere una strada illuminata. Quando ti trovi nei momenti negativi della vita è come se ti trovassi in un tunnel. Quindi per uscire dal tunnel è che ti serve? Ti serve una luce. Certo. E tu l'hai trovata, immagino. Quindi io l'ho trovata, l'ho trovata scrivendo, perché le parole volano. Sappiamo, insomma, che uno si può svolare. Verba volant. Brava. E quindi ho deciso, insomma, di trovare questa luce. Bravo. Di trovare questa luce sternando il tutto tramite appunto la scrittura. Io poi non è che sono una scrittrice, mi sono cimentata in questa nuova avventura e a quanto pare, insomma, piace. E sta anche piacendo. E infatti domani ci sarà la presentazione ufficiale di questo libro. Sì, la prima. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, la prima presentazione ci saranno tanti ospiti. Ci sarò anche io, spero. In particolare ci sarà Matteo, ecco, sono stata tua ospite. Quindi mi auguro, insomma, che ci sarai anche tu. Spero di sì. E sarà l'Agri Pessum, alle ore 17. Con noi ci sarà il deputato onorevole, avvocato Federico Conte. Ci sarà anche la mia amica, la dottoressa Maria Rosalia Picardiello, che salutiamo. Sì. E poi ci saranno diversi ospiti, insomma, che si cimenteranno nel trattare alcuni argomenti appunto presenti all'interno del libro. Quindi appuntamento. Quindi domani sera alle 17 all'Agri Pessum. Tutti presenti. Tutti presenti. Segue poi un aperitivo, leggevo. Segue un aperitivo. Io non posso fare perché sono a dieta, però per chi verrà. Vabbè, se vuoi ti faccio fare un menù a parte. È al massimo un tè, una tisana. È una tisana. Una triste tisana. Ma sono buone le tisane. Senti, invece per i radioscoltatori che ci stanno seguendo e vogliono acquistarlo, vogliono averlo, come possono fare? Certo. Allora, attualmente è disponibile solo online, quindi su Amazon. Basta, insomma, digitare il titolo del libro. Incenso al melograno. Di Gaudì e l'Annunzia. Poi, insomma, stiamo lavorando perché la cosa sembra che si stia ingrandendo, quindi sarà disponibile anche in alcune librerie che annuncerò poi successivamente. Speriamo, dai. Magari facciamo anche un film a copie. Un film a copie, certo. Una delica. Ma sì, fa molto figa oggi questa cosa, eh. E in mente nei progetti futuri ce ne vuole scrivere altri. I miei progetti futuri sicuro ci saranno, ognuno di noi, insomma. Un sequel. Perfetto. Ci sarà un continuo, perché poi la vita, insomma, è un viaggio. Eh, certo. Quindi continuo, non è che si ferma. Infatti il mio libro ti porta ad aspettare, ad un'attesa che ti dice, caspiterine, adesso che succede? Quindi mi auguro che ci vedremo la prossima puntata. Come le serie tv che finiscono sempre sul più bello e poi devi aspettare la seconda stagione. Esattamente, esattamente. Nunzia, allora in bocca al lupo. Grazie, Matteo. Per questa nuova avventura. Domani tutti numerosi all'Agri Pestum. Vi aspetto. Vuoi dire un ultimo saluto ai radioascoltatori? Certo, io ringrazio ancora una volta Radio Pestum e spero di incontrarti a te Matteo. Nella prossima, magari ne facciamo un'altra, facciamo un altro incontro alla prossima presentazione del libro. Volentieri. E quindi sono felice e orgogliosa. Grazie, grazie mille. Evviva Nunzia, Gaudiello, tutti ad acquistare incenso al melograno. Grazie, Nunzia, è stato un piacere e noi ritorniamo in musica a tra poco.